Al via un nuovo servizio dedicato a tutte le persone vaccinate oppure guarite da Covid-19 che vogliono conoscere il proprio grado di protezione dal virus. A proporlo è CERBA Italia che nei suoi centri mette a disposizione un test innovativo chiamato IGRA che valuta la risposta immunitaria delle cellule T-Memoria che hanno un ruolo chiave nel ridurre la severità del Covid-19. A parlarne il professor Francesco Broccolo, virologo e direttore scientifico di CERBA Italia. L'allerta sul fronte Covid deve essere mantenuta alta, dice, dato anche il graduale allentamento delle restrizioni. Sta a ognuno di noi prendere le decisioni più opportune per tutelare la propria salute. Ecco perché CERBA ha sviluppato un servizio ad hoc che aiuta a fare scelte consapevoli in merito alla quarta dose vaccinale che al momento è raccomandata solo per riovere 80 alcune categorie di pazienti fragili. Tra le altre persone che sono in dubbio sull'utilità o meno di un richiamo possono ricevere tramite lo screening immunologico offerto da CERBA utili indicazioni sull'effettiva copertura delle dosi già ricevute e sul proprio grado di protezione rispetto agli effetti gravi dell'infezione da SARS-CoV-2. Ogni individuo infatti risponde diversamente alle vaccinazioni anti-Covid-19 in base a fattori eterogenei, assetto genetico, immunodepressione, patologie autoimmuni, tipologia di vaccino. Nei centri CERBA è possibile effettuare un test per valutare gli anticorpi neutralizzanti protettivi verso le infezioni da SARS-CoV-2. Il nuovo test di IGRA che misura i linfociti T della memoria per valutare l'efficacia della protezione contro la malattia e l'infezione stessa consente dunque di avere una risposta certa se è necessario fare la quarta dose.